Pate, adesso vi dirò io in maniera molto crudele come funziona il sistema ma ve l'ho detto 200 volte, ma adesso vi faccio un altro raffronto che non avevo ancora mai fatto voi sapete che i social sono studiati a livello psicologico, penso di sì, ci sono 8000 studi intorno ma da... cosa è esattamente il social moderno? cos'è esattamente il social moderno? la rappresentazione social della ludopatia è come la roulotte, la... sì, la roulotte, la slot, i 3 secondi che fai così è la sensazione della ludopatia la solo QD League è la stessa cosa, randomicamente, vedete, messi con delle persone che alcune volte faranno schifo e altre saranno buone, non è randomico manco per il cazzo perché il sistema è ben strutturato apposta il matchmaking è strutturato apposta per infilarvelo in quel posto così avete la percezione ed è una cosa percettiva perché non esiste dal punto di vista matematico fino a se stesso ma è percettivo fatto apposta della loser Q o winning Q così continuate a giocare, che state facendo? ludopatia, voi state andando in slot quando giocate ranked perché voi andate e una volta c'è il team win-win e l'altra volta c'è il team rus ma soltanto continuate a giocare perché tanto come nella ludopatia la slot perderete sempre l'unico vantaggio che ha a differenza della slot qua vi dà il credito che più giocate più salite, fine l'importante è cambiare account quando si fotta, giusto? così prima o poi un account va su che è quello che stanno facendo praticamente tutti oh no, è ludopatia giocare ranked è ludopatia allo stato puro perché non c'è un sistema diretto di punteggio non c'è un sistema diretto di matchmaking non c'è, non c'è non mette quelli col 60% di win-radio tutti insieme non mette un punteggio statico per tutti win uguale x, lose uguale x fine, non è così è ludopatia è fucking ludopatia e vi piace tanto la ludopatia perché il mondo social è ludopatia e il mondo del gaming è ludopatia è tutto lì è proprio la rappresentazione di quello che è la slot e la tanto vale School of League the way we play